Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta peperoni e tonno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta tipo farfalle, tonno sgocciolato, peperoni a pezzetti, acciughe, scalogno, acqua, olio evo, sale, pepe e prezzemolo tritato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno, le acciughe ed azionare i bimbi per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. posizionare la farfalla sulle lame. Aggiungere i peperoni ed azionare il bimbi per 7 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere l'acqua, il sale, il pepe ed azionare il bimbi. per 8 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere il tonno, la pasta. Mescolare leggermente con la spatola. e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 13 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. La pasta è cotta, impiattare, spolverizzare con il prezzemolo tritato e servire. pasta peperoni e tonno. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!